Mare Fuori 4 avrà due episodi in più, quasi 90 minuti in più per tutti i fan di questa serie. Lo ha detto il regista Ivan Silvestrini in un video su Instagram, è il mio regalo ai fan della serie, uno sforzo che la produzione ha voluto fare per premiare la passione con la quale il pubblico ci ha seguito in questi anni. Il regista ha spiegato che si voleva girare addirittura un film su Mare Fuori, ma poi alla fine si è deciso di aggiungere due episodi ai 12 che vi avevamo già raccontato in un altro video precedente per far arrivare la quarta stagione della serie a 14 puntate complessive. Quindi dalla mezzanotte del 14 febbraio sono uscite altre 8 puntate su RaiPlay, il regista ha specificato, non ve le vedete tutte insieme, anche perché le ultime due saranno un po' diverse da tutte le altre. Ricordiamo che dal 14 febbraio è iniziata anche la messa in onda in chiaro su Rai2 della serie e verranno trasmesse due puntate ogni mercoledì sera. Pensate che dal 1 febbraio, giorno in cui è stata rilasciata la prima parte della quarta stagione su RaiPlay, si sono raggiunte le 44 milioni di visualizzazioni in streaming per questa serie che è diventata un vero e proprio fenomeno in Italia. Tra l'altro Ivan Silvestrini ha anche parlato di vecchi e nuovi ricordi e quindi ci aspettiamo da queste ultime due puntate speciali di Mare Fuori 4 che si torni a parlare soprattutto di Ciro Ricci. In questo video non farò spoiler per rispetto di chi non ha ancora visto la quarta stagione, ma ci aspettiamo un ritorno o attraverso dei flashback o addirittura un qualcosa che in molti aspettavamo e che desideravamo, anche se va un po' a cozzare sul fatto che la serie sia verosimile o meno, cioè il ritorno di Ciro Ricci da vivo, cioè che non è morto alla fine della prima stagione. Ma queste sono tutte supposizioni di cui si è parlato tanto anche nelle stagioni precedenti. Ma è difficile che verrà fatto resuscitare Ciro Ricci per una serie che andrebbe un po' a perdere, anche perché mancherebbero le basi per far resuscitare Ciro Ricci anche dopo tutto questo tempo. Il regista ha anche spiegato di essere entrato a lavorare nella serie a metà della seconda stagione. Prima c'era il regista Carmine Delia che aveva iniziato l'ottimo lavoro con Marefuori, poi è entrato Ivan Silvestrini e la serie racconta che aveva iniziato un po' a deflagrare e l'hanno dovuta un po' risollevare con tutte le vicissitudini che vi abbiamo raccontato nella seconda e soprattutto nella terza stagione, che è stata la più vista e che poi è stata spinta anche grazie a Netflix, da quando è uscita anche sulla piattaforma streaming di Netflix, è stata conosciuta da un pubblico molto più ampio di quello della Rai. Secondo il regista si tornerà un racconto più puro della criminalità, anche perché ci sono stati tantissimi commenti negativi, soprattutto di questa quarta stagione. Io dico sempre che è normale, è fisiologico un piccolo calo, anche perché non è più la novità e soprattutto perché adesso ci si deve concentrare sull'approfondire degli aspetti dei personaggi, soprattutto sul passato di alcuni personaggi. Anche se, vi ripeto, non sono mancati i commenti negativi e molti utenti sono rimasti delusi, soprattutto da Carmine e Rosa che si sono un po' ammosciati in questa quarta stagione, oppure della sceneggiatura che non è stata proprio all'altezza delle stagioni precedenti. Non c'è dubbio che questa quarta stagione però farà vedere anche un Massimo, il comandante, il suo lato oscuro di Massimo, soprattutto perché verrà messa in mezzo la fidanzata, Consuelo, e vedremo quindi un Massimo totalmente diverso da quello che avevamo imparato ad amare nelle stagioni precedenti. Continuerà questo triangolo fra Cubra, Pino e Doberman, con Pino che dovrà gestire la rabbia e chissà se avrà imparato a gestirla anche in amore, anche se sia molto calmato, però il carattere rimane sempre quello. E poi ci sono questi nuovi arrivi, una misteriosa detenuta che si avvicina a Cardiotrap e in primo piano l'amore fra Carmine e Rosa Ricci che chissà come si evolverà nelle prossime puntate. L'attrice Lucrezia Guidone che interpreta la nuova direttrice del carcere, Sofia, ha detto non mi vedete così crudele perché vi ricrederete del mio ruolo all'interno dell'IPM. Insomma, ci sono tantissime cose ancora da scoprire con Marefuori 4, io vi chiedo di dirmi cosa ne pensate di queste prime puntate della quarta stagione di Marefuori, scrivetemele nei commenti, siate spietati anche perché voglio sapere davvero il vostro punto di vista e se siete d'accordo con il fatto che la serie sia calata con l'arrivo di questa quarta stagione, quali sono gli aspetti che amate di più e quali quelli che non vi sono piaciuti per niente. Io vi consiglio di iscrivervi come al solito al nostro canale YouTube, Ciacchiazione, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video che riguardano Marefuori, ne faremo tantissimi, vi aggiorneremo, faremo anche un divertentissimo video sui peggiori commenti arrivati a Marefuori 4, quindi sotto questo video riempitelo di commenti perché poi selezionerò i migliori e ci farò un video a parte leggendoli per farci due risate insieme. Seguiteci anche su Facebook e Instagram, siamo anche su TikTok dove trovate tutti i nostri reels, ogni giorno avrete nuovi contenuti che riguardano il mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video! Grazie!